72 Nasi Secondi Nel A5 Perfetto Stiamo imparando anche il linguaggio dei versi Come a scuola quando eravamo piccoli Anche questo è un ottimo risultato Che fa seguito Alla terza piazza Di classe Alla Terra d'Argel La gara che si svolge attorno a Pofi Sempre in ciociaria Adesso sale sul nostro palco di arrivo Il pepaggio terzo Nella classe Cinque del gruppo A Liberato Ballarino Alla Terra d'Argel